Diciamo che Marco è un 99, è un ragazzo che in primavera in teoria non ci rientra. Io penso che, l'ho impiegato due anni fa nel finale del campionato, lui si è fatto trovare posto, un ragazzo che è cresciuto, però come dicevo prima a tuo collega, per giocare con i grandi bisogna essere cattivo. E se un allenatore vede che uno è bellino fino a 20 metri dalla porta, negli ultimi 20 metri diventa frumo, sicuramente non viene preso in considerazione. Però è un ragazzo al quale bisogna dare fiducia, come bisogna dare fiducia ai giovani che vengono reputati, pronti per giocare con i grandi. Grazie. Ci sono altre domande? Ci sono altre domande.